Dopo la protesta del 26 marzo scorso che vide commercianti e residenti di via Marconi sfilare in corteo per chiedere la modifica del progetto che riguarda la più importante arteria cittadina, questa mattina gli aderenti al comitato Salviamo Viale Marconi hanno effettuato un sit-in sotto la sede di Palazzo di Città in Piazza Italia. La richiesta è sempre la stessa, modificare il progetto e trovare posti auto nella zona più importante del capoluogo adriatico. Viale Marconi fondamentalmente fa schifo perché non è fatta per un'utenza debole. Quando tu fai una strada e non la progetti prima per un'utenza debole, cioè per un portatore di handicap, per un anziano, per un bambino, per un disabile, cioè per quella fascia più debole vuol dire che stai facendo qualcosa contro l'umanità. E via Marconi non è fatta per favorire l'utenza debole, è fatta per far passare i pullman velocemente e basta. E questo non è compatibile con il vivere cittadino di una città. Non se ne può parlare. Quando sono fatti male gli attraversamenti pedonali o non sono fatti proprio, c'è una doppia striscia continua e quindi un bambino dovrebbe attraversare di là senza la possibilità di usare un semaforo, senza la possibilità di avere un'isola salvagente. Non ne possiamo parlare. Nasce un progetto proprio all'opposto di quello che dovrebbe essere. Abbiamo provato più volte a avere questi incontri con l'amministrazione ma è stato impossibile avere un confronto costruttivo e quindi per la seconda volta, questa volta in modo più allargato perché non parliamo solo noi di via Marconi ma parlano tutti gli esercenti della città di Pescara da nord a sud in quanto Pescara è una città che nasce e si sviluppa sul commercio. Tutte le politiche poste in essere da questa amministrazione sono anticommerciali e quindi noi chiediamo che vengano poste in essere delle politiche che aiutino il commercio a rimanere in piedi perché dopo due anni di pandemia c'è da dire che c'è bisogno di un supporto e invece vediamo che qualunque tipo di mossa che il Comune sta portando avanti sta andando contro gli esercenti di Pescara.